Un saluto a tutti e benvenuti in questo nuovo video Napoli sotto shock dopo le parole di Aurelio De Laurentiis Dopo la visita a Gravina, dopo aver fatto due chiacchie con il presidente della federazione interista gioco calcio Ci tiene a parlare ai microfoni, arrivano delle domande e ne arriva anche una molto scomoda Da cui Aurelio De Laurentiis per la prima volta risponde schietto, sincero, andando direttamente al punto senza nascondersi dietro a un dito Di che cosa si parla? Si parla di Ozyman, attenzione, non del caso Ozyman e Lille Dell'accusa di farsi un bilancio per il quale proprio Aurelio De Laurentiis forse risponderà in un eventuale processo Ma si parla del calcio mercato e di Ozyman Io vi dissi qualche tempo fa, qualche mese fa, che molto probabilmente sarebbe stata l'ultima annata di Ozyman al Napoli Ed effettivamente mi sono sbagliato Mi sono sbagliato oppure no? Andiamo a sentire le parole di Aurelio De Laurentiis e poi le commentiamo assieme Anche perché per i tifosi del Napoli non si mette molto bene Prima di partire con il vero e proprio contenuto di questo video, come sempre, io vi invito a mettere un bel like E a commentare solo dopo aver visto il video per intero Iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e attivate la campanellina per rimanere sempre aggiornati Ogni qualvolta uscirà un nuovo video, mi raccomando, una cosa gratuita ma doverosa da fare E la condivisione per far sapere il nostro pensiero il più lontano possibile Detto questo andiamo con le parole di Aurelio De Laurentiis Eccola qua Ma lo sapevamo Ma questo lo si sapeva già da quest'estate La nostra trattativa è stata una trattativa molto lunga e amicale Perché se no non sarebbe stata così lunga Lei quando ha un amico si vuol trattenere a lungo con l'amico E quindi uno così allungava il brodo, allungava il brodo, allungava il brodo Ma sapevamo perfettamente che lui sarebbe andato o al Real Madrid o al Paris Saint Germain o a una squadra inglese Con Zielischi non c'è invece più speranza di Attenzione perché allora è proprio come vi disse io Anche se la maggior parte dei media non toccavano mai proprio questo calciatore Non ne parlavano mai né per quanto riguarda il caso della plusvalenza totalmente fasulla E nemmeno per quanto riguardava il calcio mercato L'anno scorso il Napoli volava sulle ali dell'entusiasmo in primis dei media Che continuavano a spingere Diciamo a soffiare per gonfiare le vele della barca a vela del Napoli Che si è sgonfiata Le vele si sono sgonfiate immediatamente È bastato solo un calciatore che entrasse in crisi E per i tifosi del Napoli Ecco che si rivede di nuovo L'abisso L'abisso perché non si vince più una partita E i migliori giocatori vanno via Additura per Zielischi si parla dell'Inter Un interessamento dell'Inter E ci dice Aurelio De Laurenti Sempre in questa intervista Che da quello che legge sui giornali Zielischi prende più soldi a Napoli Di quello che gli darebbe un'eventuale proposta dell'Inter Addirittura questo calciatore preferisce andare all'Inter Piuttosto che rimanere a Napoli E guadagnare dei soldi Questo fa capire un po' l'ambiente Napoli L'ambiente che l'anno scorso ha vinto il suo terzo campionato Dopo 33 anni Non fa piacere ai tifosi del Napoli Che cominciano a ribellarsi in primis Proprio con Aurelio De Laurentiis Hanno anche un po' Rinnegato Quello che era diventato Osimena Addirittura si vedevano le torte con la maschera I cagnolini con la mascherina di Osimena Adesso il popolo napoletano Giustamente è rimasto deluso E se la prende col suo presidente Per una volta però Aurelio De Laurentiis non ci gira attorno Forse anche perché In questo momento c'è anche il calciatore che sta parlando C'è anche Osimena Che continua a dire la sua Continua a far capire E a far sapere Che dopo Il TikTok fatto Proprio da Il manager Il social media manager del Napoli Dove praticamente si sfotteva il calciatore Dopo aver sbagliato un calcio di rigore Si erano rotti gli equilibri per poter rimanere a Napoli E lui voleva andare via a tutti i costi Io ve lo dissi Che sarebbe stata la sua ultima annata Ancora prima della discussione Anche perché Un calciatore così forte Sicuramente È molto appetibile per tutte le grandi squadre Tra queste grandi squadre Io ci metterei anche La Juventus Ora stiamo calmi Non sto dicendo che Osimena va via da Napoli Andrà alla Juventus Molto probabilmente Andrà a squadre come Real Madrid Paris Saint Germain Così come ha detto Proprio La DL Ma Congiuntoli Ci possiamo aspettare Di tutto E diciamo che Un Osimena insieme a Vlaovic Io ce lo vedrei anche Abbastanza bene Anche al posto di Vlaovic Sacrificarlo Per carità Poi c'è da mettere Sul piatto della bilancia I pro e i contro Di uno scambio Tra Vlaovic E Osimena Comunque È un affare Che mi solletica Molto Il palato Detto questo Per i napoletani Non si mette bene Anche perché Abbiamo visto Il Napoli Con Osimena Abbiamo visto Il Napoli Senza Osimena Ma per il Napoli Proprio Causa Osimena Potrebbe mettersi Ancora peggio Qualora La richiesta Del PM Chinè Fosse accolta E venisse Aperta Un'indagine Quindi andare A processo Per quanto riguarda Poi Il falso in bilancio Dello stesso Dell'Aurentis Con il Napoli Ricordiamo Operazione Non fittizia Ma fasulla Quella di Osimena Dove i 4 calciatori Di cui 3 Non hanno mai calcato I campi di Serie A Neanche a Lille Sono stati valutati Circa 20 milioni Di euro Ed è per questo Che Adesso Aurelio Dell'Aurentis Sta molto Molto calmo Anche nel lamentarsi Con gli arbitri Detto questo Che dire È stato Bello Avere ragione Spesso mi chiedete Peter perché non parli Del calcio mercato Adesso ve lo spiego Perché io non credo Assolutamente Alle notizie Che leggo Sui giornali Per quanto riguarda Ormai Il fantacalcio Mercato Anche perché Ogni nome Viene accostato A 2-3 squadre Settimana Per settimana Poi naturalmente C'è chi Ha le giuste fonti Sono poche C'è chi C'è azzecca Perché naturalmente A dire Domani piove Domani piove Domani piove A via di ripeterlo Settimane Mesi Su mesi Arrivare il giorno Che piove Ed è normale Che ci azzecchi Quindi Basarmi sulle informazioni Che danno Per poi Riportarle E non azzeccarci mai Preferisco Di no Preferisco Affidarmi alle sensazioni E capire Secondo me Se un giocatore È pronto A rimanere In quella squadra O è pronto Ad andare via E per me Osiman Era già pronto Dopo l'anno scorso Ad andare via Così come ha fatto Spalletti Senza iniziare Il nuovo anno Ma siccome l'aveva iniziato Io vi dissi Che Molto probabilmente Questo sarebbe stato L'ultimo anno Di Osiman Al Napoli E ci ha dato la conferma Adesso Aurelio Dell'Aurenti Se non parlo mai Di calcio e mercato Una volta che non ho parlato Ci ho azzeccato Fortuna Ma non sono Un esperto Del settore Detto questo Il video finisce qua Se ti è piaciuto Metti un bel like Se sei arrivato fino a qua Se sei un supereroe Non ti rimane che Condividere E commentare Noi ci vediamo Al prossimo video Buonanotte a tutti Ciao Aio